Nell'episodio precedente, Pierugo è ritornato all'inferno per chiedere ad Adelfo dove è finito il suo pupazzetto della Donna Tigre, mentre, poco lontano, Don Cristiano Clericiance ha incaricato il Mago Tontolus di trovare e condurre al suo cospetto due misteriosi personaggi e sembrerebbe proprio intenzionato a formare una sorta di squadra per scatenare l'Armageddon. Uscito dal vulcano Etna, infatti, Pierugo lo vide sfrecciare davanti a sé sulla sua nuvola di smog. Ma quello è il Mago Tontolus! Chissà che cosa ci fa da queste parti! Allora, Pierugo, Adelfo Guidobaldi ti ha detto dove si trova la Donna Tigre? No, quel coglionazzo era ubriaco Fradicio Marcio e non se lo ricorda, però mi ha dato una lista di persone che ne sono possibili possessori. Cosa? Ci risiamo! Questo mi sembra il classico allungamento di brodo! A proposito di brodo allungato, è pronta la cena! E per cena abbiamo solo del brodo, allungato per di più! Non so cosa dirvi, purtroppo le provviste, così come i soldi, stanno finendo. Qui siamo in sette e con Tamarrus adesso siamo in otto. Sono tante le bocche da sfamare! Già, e poi ci sei tu che come minimo mangi per tre! Qui finora si sono presentate solo reclute, ma nessuno è mai venuto a offrirci un lavoro pagato. Ha ragione, finora siamo andati in giro solo per raggiungere i nostri scopi personali! I tuoi scopi personali! Ma le avventure sono impegnative e per mandare avanti una base servono molti più soldi. Ho deciso! Alcuni di noi partiranno per delle nuove missioni e saranno così eroiche e declatanti che la gente inizierà a parlare delle nostre gestra. Così il nome della nostra squadra diventerà famoso e finalmente incominceremo ad avere una clientela pagante! Ottima idea! E adesso che possiedi anche la leggendaria lama ghiacciante sarà invincibile! Ecco, a proposito di questo. L'ho provata sulle fiamme infernali e non si è ghiacciata proprio a una ceppola. Mi sa che sta spada è una mezza fregatura. Presta lame! Cosa? Siccome è una lama glaciale e l'abbiamo trovata al polo sud, forse è solo lì che si può sprigionare davvero il suo potere. Andrò ad allenarmi fra i ghiacci antartici e usandola forse riuscirò a comprenderne i segreti. Come vuoi Ubaldo! Tanto io preferisco... La mitica spada Excalibur! Allora è deciso! Ubaldo si allenerà al polo sud con... La leggendaria lama ghiacciante! Anselmo, come sappiamo, si sta allenando presso il mago Sberlef e così rimaniamo io, Domenico, Lodovico e Orazio. E io? Ah già, tu! Il nuovo arrivato! Hai già in mente qualche missione? Adesso che ci penso sì! Una missione che unirà l'utile al dilettevole! Ecco che sta per arrivare una delle sue genialate! Qual è il mostro più pericoloso che conosciamo? E' senz'altro Rosarium! Quello mi aveva perfino catturato e voleva scoreggiarmi sulla cappella! Instant Pierugotrivia! In qual'episodio della prima stagione Lodovico è finito nelle grinfie tentacolari di Rosarium? E come si è salvato? Se lo sapete, scrivete la risposta nei commenti! I dieci più veloci che avranno dato la risposta esatta verranno salutati nel prossimo episodio! Esattamente! E per avere una fama epica dobbiamo sconfiggere dei mostri epici! Ma il mostro Rosarium non viveva oltre la pianura dei venti sfinterici dall'altra parte del mondo? Praticamente è in Nuova Zelanda! E allora? Ci arriverò in un lampo col teletrasporto! Ma Pierugo, non capisci? Se sconfiggi un mostro neozelandese, la tua fama non arriverà mai fino a qui! Non ti preoccupare! Si sa che le chiacchiere e i gossip viaggiano velocissimi! E poi ho un altro motivo per voler sconfiggere Rosarium! Tamarrus, tu verrai con me! Se non ho capito male, le tue armi sparano puzze radioattive! Beh, più o meno! Per ora sono riuscito a produrre delle bombette all'acido capronico e alla puzza di vecchi cartoni bagnati dalla pioggia! Ma l'idea iniziale sarebbe stata quella! Mi pare di capire quindi che ti farebbe comodo un nuovo lezzo da aggiungere al tuo inventario! E Rosarium può fornircelo! E come? Rosarium è un mostro mutante dotato di sei tentacoli! Anzi cinque! Uno gliel'ho già tagliato io in passato! E questo significa che ha ben sei ascelle! Pensa che arma potente se riuscissimo a raccogliere e sintetizzare il fetore di ascella di Rosarium! Per creare un nuovo tipo di munizione per le tue pistole tarocche e tamarre! Già, è un'ottima idea! Ma non potrete mai riuscirci senza un laboratorio adeguato! La giusta strumentazione e soprattutto uno scienziato esperto! E costrui da dove sbuca? Ecco! Adesso siamo addirittura in nove! Ce ne mancava giusto un altro! Per di più con laboratorio attrezzato! Finiremo rovinati e senza un soldo! E di cosa ti preoccupi tu? Ti ricordo che fino a qualche mese fa eri un selvaggio che viveva nella foresta! Non li hai mai avuti dei soldi tu? Nel frattempo l'addestramento del piccolo Anselmo stava continuando! Allora Anselmo, per poter apprendere la prossima magia necessiti di un maggior potere magico! Avresti bisogno di un piccolo aiutino! Sono ancora piccolo per prendere droghe! Ma quale droga, tonto? Quello è il nome di mio padre! Sei un Beota! Casomai sono Beoti! È il mio cognome! Basta! Intendevo dire che hai bisogno di un oggetto magico! Quale oggetto? Mmm, fammici pensare! Trovato! Il medaglione della saccenza potrebbe fare al caso tuo! E dove si trova? Dovrai recarti a ovest, alla collina dei coglioni! Lì vive un pericoloso mostro mutante chiamato Matteo Renzis, che spara raggi laser dagli occhi e cazzate dalla bocca! La tua prossima missione sarà sconfiggerlo e impossessarti del medaglione! Ce la farà il piccolo Anselmo a completare la missione? Lo scopriremo soltanto nella prossima spettacolare puntata!